Buongiorno, mi chiamo Marco Cristanini e sono il curatore del Museo di Storia dell'Informatica del Dipartimento di Informatica dell'Università di Verona. Oggi sono qui grazie al MUPIN che mi ha gentilmente invitato a disporre quella che è l'esperienza che stiamo facendo a Verona come museo, è un museo in cui non solo si recuperano antichi manufatti e li si ripristinano in modo tale da poterli esporre ma è un museo che vuole essere innovativo con un laboratorio didattico per persone anche con disabilità e quindi un museo accogliente, tattile, che possa fare didattica per le scuole e per chi è anche sfortunato con appunto delle disabilità. Il nostro lavoro quindi prevede una direzione di raccolta non solo di manufatti ma anche di notizie storiche, di fatti storici e la preparazione appunto di un laboratorio che possa essere come detto prima fruibile anche per persone diversamente abili. Grazie. 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 Grazie.